Noi dobbiamo con molta serenità prendere atto che l'Europa non esiste, l'Europa politica che dovrà precedere quella economica, quella di istituire un euro di serie A e un euro di serie B mi pare un'ipotesi completamente errata, completamente inaccettabile. C'è un'idea di distanza, in questo particolare momento di crisi, come possiamo valutare i costi e i benefici dell'ingresso dell'Italia nell'euro? Io ritengo che l'entrata nell'euro sia stata sicuramente una strada quasi obbligata e quello di cui sicuramente mi dolgo è che questa strada sia stata percorsa in maniera non completamente rettilinea. Abbiamo anteposto la moneta alla nazione Europa e il risultato è stato che questa moneta, che è una moneta obiettivamente sottoponibile alle tensioni dei mercati, non è in grado di resistere a queste, in qualche modo, tensioni accelerate di quest'ultima stagione. L'evento di oggi si pone proprio per la tradizione che la Fondazione ha di questo think tank che noi abbiamo avviato da tempo, nel quale abbiamo affrontato vari problemi, le paure planetarie, il problema del Mediterraneo, siamo stati anche lì profetici, abbiamo visto poi realizzarsi questa primavera araba. Oggi si pone il problema di sapere quali correttivi bisogna portare all'Europa e all'euro per far sì che questa moneta e questa nazione possano tenere e in fondo ovviamente domandarsi se poi questo non accade, se non è il caso di porsi delle domande come quella che si stanno ponendo il 43% degli intervistati che forse in Italia non vorrebbero stare nell'euro. L'Italia può uscire dall'euro? Non ci sono norme che lo impediscano, non ci sono norme che lo prevedono, ma non ci sono norme che lo impediscono. Se l'Europa continua ad avere queste caratteristiche, è una strada che obiettivamente non reipotizzare che possa mai realizzarsi, dobbiamo pensare in termini concreti che forse piuttosto che essere cacciati dall'euro, tanto vale uscire dall'euro.